Sanzone, palla d'esterno, intelligente, Sanzone, palo, ancora Sanzone, palla buona, testa alta, va Sanzone, altro dribbling, palla dietro, a Mauri la conclusione Poi palla larga per Caprari, nera di rigore contro Valetta, cerca il cross, lo trova, bruscato di testa Marchionni, va da Mauri, nera di rigore contro Croll Group, a Mauri con la rovesciata Un gol bellissimo, di Mauri, la rovesciata per il 3-0, decimo in Serie A, grandissimo gol di Mauri